Sul ponte che ovviamente nasce per una norma di legge del dicembre 1971 e penso che il 90% delle persone che ci sta seguendo in presenza e a distanza nel 71 neanche era al mondo, quindi la norma che dà vita al ponte sullo stretto compie 52 anni a dicembre, ecco l'obiettivo è che il 52esimo compleanno coincida con la copertura economica dell'intero costo che non dovrà superare i 12 miliardi nell'arco dei prossimi 10 anni con una ricaduta positiva per il prodotto interno lordo siciliano, calabrese e italiano in generale ampiamente superiore all'investimento fatto e quindi sono non solo sereno di più, sono assolutamente soddisfatto di quello che in questi 11 mesi senza far miracoli, senza essere dei geni ma con un'ottima squadra abbiamo pianificato perché si metta a terra anche quelli che stanno secondo me con sentimento poco italiano, non dico auspicando ma prospettando che i fondi del PNRR non vengano spesi tutti e non vengano spesi bene rimarranno male.